TOLO TOLO Per tutti i gusti andate a recuperare E poi insomma tra fine anno e inizio del nuovo anno Anche i film migliori del 2019 I film migliori del decennio Perché abbiamo passato il decennio Siamo in un nuovo decennio E quindi insomma abbiamo avuto da fare E Che Tolkien Time è stata un po' rimandata Però eccomi qua In questo episodio diciamo Faremo qualcosa di un po' particolare Infatti non parleremo né del confronto di Signore Danelli Né analizzeremo qualche dettaglio Del Corpus Tolkieniano Ma parleremo di due avvenimenti Insomma che sono successi nell'ultima settimana. Prima di cominciare a parlare però di queste cose andiamo con la sigla. Allora, prima e più importante notizia, come immagino che avete sentito se guardate questa rubrica siete sicuramente dei fan, degli appassionati, degli interessati di Tolkien, il 16 gennaio ci ha lasciato Christopher Tolkien, figlio di John Ronald Reuel Tolkien, e curatore appunto dell'opera del padre, del legendarium del padre, è diciamo una perdita che si fa sentire, una perdita che si fa sentire perché per tutto quello che Tolkien aveva fatto, avevamo qualche mese fa come intervistato, no, Tolkien, in termini della Fari Fami Filmi, io e mio fratello, nei fatti l'ho intervistato mio fratello però, che rappresenta anch'io Womin 4, aveva definito Christopher Tolkien un coautore, un coautore di tutti gli effetti, da una definizione assolutamente giusta, perché la maggior parte delle opere a nome Tolkien che sono in circolazione oggi dipendono proprio da Christopher Tolkien, sono state pubblicate proprio da Christopher Tolkien, che è dedicato tutta la seconda metà della sua vita, del 1973 in avanti, proprio alla curatela delle opere di Tolkien, lasciandoci importantissime opere, in primo luogo leggo appunto Il Silmarillion, del 1977, poi altre opere, per esempio Il Raconte di Compute del 1980, poi tra il 1983 e il 2002 c'è tutta la lunga, lunghissima sequenza della History of Middle-earth, tutti i 12 volumi della History of Middle-earth, che vi invito, non è la prima volta che lo faccio, ma vi invito veramente a leggere, a darci un'occhiata, a scorrere, magari anche non leggendoli completamente da copertina a copertina, ma concentrano sui saggi che più interessano, perché veramente sono in maniera di informazione, poi negli anni 2000 i figli di Urin, la leggenda di Sigurd de Gudrun, la città di Artù nel 2013, nel 2014 il Beowulf, nel 2017 il Berenilut, nel 2018 la caduta di Gondolin, tutte appunto opere di grande importanza, tutti i testi pubblicati da Christopher Tolkien che sono fondamentali per conoscere più il leggendario tolkieniano e espandere la nostra visione, passando al segno degli anelli ad una visione più grande. Ha fatto quello che Tolkien avrebbe voluto fare, ovvero pubblicare le leggende della prima era, della Terra di Mezzo, e che non è mai riuscito a fare, perché la morte l'ha colto prima. E vorrei concludere, diciamo, con questo breve commiato, questo breve ricordo di Christopher Tolkien, leggendo una lettera che John Tolkien, suo padre, gli ha inviato nel 1944, quando Christopher Tolkien era a distanza in Sudafrica con la Royal Air Force. Tu sei stato per me un dono così speciale in un periodo di disperazione e di sofferenza mentale, e il tuo amore, che si è dischiuso subito non appena sei nato, mi ha fatto capire a chiare lettere che io avrò sempre motivo di consolazione grazie alla certezza che non c'è fine a tutto questo. È probabile che sotto l'ala del Signore noi ci rincontreremo, vivi e uniti, fra non molto tempo, carissimo. Ed è certo che abbiamo un legame speciale che durerà al di là della vita, sempre soggetto naturalmente al mistero del libero arbitrio, con il quale ognuno di noi può egettare la propria salvezza, nel qual caso Dio sistemerà le cose in modo diverso. Christopher Tolkien è stato un dono molto speciale per suo padre, per John Tolkien, come ho letto, ed è stato un dono anche con noi, perché ha condiviso le opere di scrittura del padre con tutti noi. Quindi grazie, Christopher Tolkien. Passando invece alla seconda notizia di cui voglio parlare, notizia ovviamente meno importante, però comunque di cui vale la pena parlare qua a Tolkien Time, sono le nuove notizie, le nuove informazioni che circolano da sei giorni, da più o meno una settimana, sulla nuova serie, targata Amazon del Signore degli Anelli, Lord of the Rings on Prime, perché, diciamo, quali sono queste nuove notizie? Hanno pubblicato i nomi, i loro account social, dei 15 attori che saranno i protagonisti della serie. Che dire, è una notizia che si sa pochissimo ancora di questa serie, si sa veramente, veramente molto poco. I due momenti forti della, diciamo così, pubblicità di questa nuova serie sono state le pubblicazioni della mappa e la pubblicazione dei nomi di questi attori. Per quanto riguarda la rivelazione della mappa, con l'ambientazione a Numenor, e siamo stati un momento veramente gasante, perché Numenor è numero, quindi Numenor è Numenor, quindi veramente una figata, diciamo che questo secondo momento così pubblicitario di marketing, secondo me non è stato all'altezza, perché hanno pubblicato i nomi di questi 15 attori, come se fosse una gran notizia, però penso che non sia stata solamente la mia reazione. Appena ho visto questo e ho detto, chi cacchio sono? Nel senso, sì, sono attori, ok, è bello sapere chi si stanno lavorando, che le cose stanno andando avanti, però sì, ci sono persone che sostanzialmente non conosci, l'unico, ci sono due attori un po' più famosi, perché sono stati nel Trono di Spade, un è Benjen Stark, che non aveva stata gran parte, sì, Vucifera, possa fare Sauron, ma non ho, diciamo, poi più sentito conferma il riguardo, non lo so, e l'altro invece è quello che ho interpretato il giovane Ned Stark in un flashback dell'attore della gioia, sempre nel Trono di Spade. Che dire, buona notizia questa qui, la rivelazione degli attori che non mi fa né caldo né freddo, nel senso, è vero che non sono nomi noti, magari si poteva aspettare qualche pesce grosso in questa serie, e così non è stato, però insomma, è pur vero che, facendo sempre il confronto con il Trono di Spade, che è un po' paradigmatica in campo della serialità fantasy, moltissimi attori del Trono di Spade non erano famosi quando erano nel Trono di Spade, sono diventate poi con il tempo, la stessa Emilia Clarke, che adesso è, diciamo, affermatissima, non era sostanzialmente nessuno più nel Trono di Spade, è vero che c'erano nomi grossi, come per esempio Sean Bean, uno su tutti, mentre qua nei suoi anelli manca un nome forte, manca una persona che, diciamo, ti spinga, ti invogli ancora di più a vedere questa serie, però, insomma, sì, non fa né caldo né freddo, non è né una brutta né una buona notizia, la giudicheremo poi dal risultato. C'è, diciamo, stata un po' di polemica perché alcuni di questi attori sono di colore. Che dire, qui, diciamo, personalmente io sospendo il giudizio, nel senso, protagonisti di colore nelle opere di Tolkien non ce ne sono, non ce ne sono, almeno, penso, diciamo, al contesto di Númenor, penso agli elfichi, le cui caratteristiche fisiche sono sottolineate da Tolkien, questo non vuol dire che Tolkien sia razzista perché non ci sono persone di colore nel suo leggendarium, ma se avete dubbio a riguardo recuperate i video in cui parlo del presunto razzismo dell'opere di Tolkien, però, diciamo, sospendo il giudizio perché può darsi che abbiano avuto una brillante idea su come inserire questi attori di colore in modo sensato, che non mettono semplicemente un elfo nero solo perché dobbiamo mettere per forza una persona di colore per essere progressisti, perché in questo caso non avrebbe senso, ma magari, magari sono riusciti, diciamo, a giustificare in maniera più sensata anche questa cosa, quindi non lo so. Notizia questa qua di Amazon che non mi ha, diciamo, non mi ha creato hype, però non mi ha almeno, diciamo, completamente sgasato al riguardo, quindi, diciamo, la crudità che avevo prima ce l'ho ancora adesso e niente, insomma, staremo a vedere man mano che inizieranno a circolare poi altre, altre notizie al riguardo. Bene, per questo video è tutto, come vedete, è un episodio un po' per ricordare i toolkint, ma, insomma, va bene anche rinnovare il format ogni tanto. Mettete mi piace al video e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, ponete anche la campanella per restare sempre aggiornati sui nuovi video della Fairy Family Film, non solamente di Toolkint, ma anche tutto il resto del nostro meraviglioso contenuto e per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo appuntamento con Toolkint e la Fairy Family Film. Ciao a tutti! Ciao a tutti!